Città di Cerignola non si ferma, Virtus Molfetta e Nuova Matteotti Corato neppure. Si è ormai staccato il terzetto di testa nel campionato di Serie C silver pugliese di pallacanestro che dopo la nona giornata vede ancora la capolista foggiana a punteggio pieno dopo il 102 a 73 su New JT Trani. Da segnalare non solo i 26 punti di Ionicas ma anche i 17 cada uno di Kaloa e Zvedauskas. Non demorde tuttavia Nuova Matteotti Corato che infila l'ottava vittoria di fila contro Dinamo Brindisi nonostante l'ottimo stato di forma della quarta classificata partita bene con il solito Watley miglior realizzatore con 25 punti. In evidenza anche il compagno Dimitro 22 stesso bottino di Cicive fra i padroni di casa che contano anche sui 21 di Sabecchis. Pollice in su pure per Virtus Molfetta che passa a Monopoli per 85 a 72 con 23 punti di Urkac. I 25 di Lescott non bastano ad A.P. che ha affidato nel frattempo la guida tecnica a coach romano Exostuni e nel decimo turno a Molfetta si affronteranno proprio le due inseguitrici di Cerignola. Si rialza intanto la scuola di basket Lecce che prevale su Diamond foggia per 90 a 85 con 30 punti di segura superato soltanto dai 34 di Coppola per gli ospiti. Turno agrodolce per le Baresi con Cus sconfitta a Messagna e da New Virtus. Cinque uomini in doppia cifra fra i ragazzi di Brai su tutto il solito trionfo con 19. Fattore campo rispettato anche da Adria che batte Anspi-Santarita-Taranto per 108 a 88 con 23 punti di Maglietta e 21 di Grimaldi. Pecca ancora di continuità nuova cessistica Barletta che cade in casa della fortitude nonostante 17 punti di Chirlis. I tranesi si aggiudicano il derby della Bat per 74 a 66 con 15 punti di Logoluso infoltendo il gruppo a 6 punti ora composto da 5 squadre. Saranno proprio i barlettani potenziati nel frattempo dall'ingaggio della guardia Mirando ad incrociare la capolista Cerignola nel prossimo turno.